Gambero Rosso, protagonista in questi giorni di una performance a record quasi 70 punti percentuali in due sole giornate dopo la notizia di un accordo siglato con Giglio Group. Con noi in studio Paolo Cuccia, presidente amministratore delegato di Gambero Rosso, leader italiano nel settore della food and wine. Buonasera, grazie per essere con noi. Buonasera. Allora parliamo dell'accordo, che cosa è piaciuto in sostanza al mercato di questa firma che avete fatto con Giglio Group? Si tratta della prima società di e-commerce specializzata nel settore del broadcast radio televisivo. Ma l'accordo è abbastanza semplice, è due partner che hanno dei punti di forza estremamente importanti. Il Gambero Rosso ha una fortissima storia, una grande reputation in termini di contenuti, in termini di internazionalizzazione, in termini di prodotti e cucina italiana che oggi stanno avendo una grandissima crescita a livello internazionale. Giglio ha dimostrato di essere il soggetto italiano che ha trovato le chiavi per accedere al broadcast internazionale e quindi il Gambero Rosso con 2000 ore di library, 300 ore prodotte annualmente, un'attività di successo con Sky, era il partner ideale. E questo è preso dal mercato, diciamo anche che il titolo era ampiamente e rimane ampiamente sottovalutato, quindi probabilmente si sono combinati un aspetto specifico con un'attenzione ai fondamentali del Gambero. L'obiettivo resta sempre quello di veicolare l'italianità nel mondo. Le chiedo come è cambiata, secondo lei, la percezione dell'italianità rispetto a un anno. La percezione dell'italianità è al picco di qualunque desiderio dei paesi, specie direi per fortuna, quelli in grande crescita, quelli lontani, che sia la moda, che sia la musica, che sia la tecnologia e in questo caso che sia il cibo. Molto spesso l'Italia si presenta impreparata e quindi come sa abbiamo una fortissima piattaforma di education in Italia e anche a livello internazionale, l'Italia si presenta con un eccesso di biodiversità, questa è una benedizione divina, però certamente rappresentare nel campo del vino 400 vitigne autoctone non è facile e qui entrano, quello che la mia figlia definì una volta, sbagliando le pupille gustative. Quindi si capisce un vino dell'Etna, si capisce un vino del Soave, quando si vedono i luoghi, si vede la bellezza dei luoghi, si vede la storia dei luoghi. Quindi questa combinazione di education del gambero, di promotion del gambero, unita con la trasmissione televisiva, fa la differenza. E questo i mercati ce lo chiedono, l'accordo con Giglio in Cina sta andando molto bene, abbiamo avuto già 100 puntate su CCTV, la più grande televisione cinese, la più grande televisione probabilmente del pianeta, a 100 milioni di telespettatori, e il mercato si è accorto di questo e giustamente credo l'abbia ritenuto. Secondo lei come gli investitori considerano in questo momento l'Italia e quanto potrebbe pesare un voto anticipato o comunque l'instabilità politica? L'Italia o gli italiani? La sua domanda è sull'Italia. L'Italia obiettivamente si presenta in un momento di grande fragilità. Gli italiani hanno grandissima attenzione, le aziende italiane, la produzione italiana, ma anche le aziende italiane che sono state comprate da multinazionali hanno continuato a sviluppare un mercato in Italia. Quindi il sistema Italia è obiettivamente in un momento di grande fragilità. Ci sono delle imprese, dei settori, questo settore è straordinario. Se noi uniamo con un cerchio tutto ciò che dall'agricoltura diventa ospitalità e turismo e poi andiamo a vedere la ricaduta sulla meccanica, un settore che va al 20% del PIL, questo settore è in una forma smagliante. Le aziende molto spesso sono piccole, altre sono di medie dimensioni. Quindi in questo il gambero rosso è la piattaforma che abilita queste aziende sui mercati internazionali. Ma secondo lei con l'uscita della Gran Bretagna dall'Europa si parla tanto delle possibilità di Milano come capitale finanziaria, come sede dell'Agenzia Europea del Farmaco. Quanto l'Italia si sta giocando una partita importante? L'Italia anche in questo frangente passaggio istituzionale ha un leader, una presidenza del Consiglio che ha attirato grande rispetto. Quindi sicuramente il governo Gentiloni fa tutti i passi che saranno possibili. Poi se ci saranno lezioni questo discorso andrà visto. Io credo che in questo Milano ha fatto moltissimo, il successo dell'Expo, una gestione tra la regione e il comune, anche se di colori diversi, ma che trovano la loro coerenza. Quindi torniamo all'aspetto che mi piaceva sottolineare prima. L'Italia ha dei problemi, ma alcune aree geografiche, alcuni personaggi, alcuni produttori, alcune aziende hanno grandi prospettive. E faccio un'ultima domanda. Siete presenti in cinque continenti. Il prossimo obiettivo che si è dato? Il prossimo obiettivo che mi sono dato, oltre a quello di accompagnare se il mercato consentirà questo recupero di valore, è quello di fornire, completare questa opera importantissima di formazione al gusto italiano. Quindi la passata, progredita bene l'attività di export, progredita bene l'attività di crescita nei mercati importanti, oggi bisogna aiutare questi mercati a capire meglio il nostro gusto. E quindi su questo l'Italia che ha da sempre una storia di integrazione di gusti e culture. Ricordiamoci che i pomodori non c'erano in Italia, ne abbiamo 122 varietà. Quindi l'Italia che riesce a comprendere il gusto degli altri è un'Italia che vince. Grazie per essere stato con noi allora Paolo Cuccia, Presidente, Amministratore e Delegato di Gambero Rosso. Alla prossima occasione.